Ecco a voi, la dimora del maestro, sono venuti a trovare il maestro con la sua nipotina. Sai come ti chiami? Nicolo, dai. Nicolo, ti chiamo Nicolo. Ecco a voi. Ha compiuto sei anni ieri. Ha compiuto sei anni ieri. Abbiamo fatto una bella testicciola. Con lo zio Loreto, detto Lollo. Con il suo papà, tutti i bambini. Lollo. Ha fatto una gran bella festa. E da oggi è più grande, una bella bambina più grande. Ora c'è sei anni, fa la prima elementare. Vero? Lorelie. Il maestro. Eccomi qua. Siete ancora all'altezza di farci vedere al mondo intero la sua esuberanza. Fai vedere i dentini. Così. Guarda anche lo zio, guarda. Abbiamo perso il dentino. Hai visto? Lo zio è rinato adesso. Infatti ho perso i dentini. Adesso metto i dentini nuovi. Niente, da 52 anni... Vediamo l'esuberanza del maestro che si scatena in un momento... Allora è, facciamo allontanare la nostra nipotina. In un momento di ira. Così ti vedono, ma... Grande maestro! Eh, sono ancora abile. Adesso iniziamo così dolcemente. Facciamo vedere che la velocità... Ci vuole velocità. Velocità, 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 velocità. Ci stiamo incartati. Ci stiamo incartati. Velocità, via! Ecco voi, come riconoscete l'orelie... Indiscutibile.